Vuoi assaggiare? Ma che buono! Family Ciao, sono Ale, vivo gluten free e cucino senza glutine per tutti. Se puoi vedere tutto questo è grazie al buon Luca dietro la telecamera, che ovviamente assaggerà. Eccoci qua. Sono qui. Oggi per vivo di pizza, istantanea in padella strepitosa, farine naturali. Iniziamo, intanto iscriviti al canale, fallo subito, se no ti dimentichi. Ma l'hai acceso il forno? No, perché focaccia che ti risolve la cena con una frusta, una padella, se non vuoi accendere il forno oppure per gli studenti fuorisede che non lo hanno a disposizione oppure è contaminato, noi la portiamo sempre nelle fiere quando andiamo in giro e la mangiamo tutti. La facciamo con un mix di farine autoprodotto, senza alcuna addensante. Le farine sono semplici e reperibili. L'unica cosa che devi fare è creare questo bell'impasto cremoso, due giri di frusta e poi via in padella. Ti lascio qui la versione senza grano saraceno. Adesso la parte più divertente, talmente veloce che sembra uscire dalla padella direttamente farcita. Possiamo mangiare? Sì, io saluto e tu mangi, come sempre. Tu devi salutare. Eh. Mi dispiace. Famili, se ti piace Vivo Cruze & Free nella tua vita, metti mi piace, condividi il video, potresti essere utile ad un sacco di persone. Ci vediamo giovedì alle 18 per una nuova fantastica avventura. C'ho l'acquina in bocca e non... Lo posso mangiare? Eh sì, dai. Cin cin. Ciao belli. È l'ora di pranzo ed è una goduria questa cosa, vero? Mi dirai che mi noti a fare? Mmh. Mmh. Buon. Buon. Molto. Ti aiuto il pulsante unto della... Ma non c'è la sosta. Quello che succede dopo la registrazione delle ricette. Se la mangiamo. Mangiamo. Che buon so. Mangi la birra. Mmh. Mmh. Mmh.